Luciana Littizzetto ha fatto impazzire il pubblico di Tussico e Vales con la sua esibizione in playback nei panni di Anna Lisa durante l'ultima puntata del programma. La comica e giudice del talent show si è esibita sul palco cantando Mona Moore e ha indossato un outfit identico a quello della cantante Savonese nel videoclip della canzone. Il pubblico è letteralmente impazzito per la performance di Luciana che ha ricevuto applausi e complimenti da parte di tutti, compresa Sabrina Ferilli. Ma la sorpresa più grande è arrivata quando Luciana ha condiviso il video della sua esibizione sui social e ha ricevuto la reazione divertita di Anna Lisa stessa, che ha definito il tutto un ennesimo capolavoro. Anche gli altri giudici del programma hanno dato il loro meglio. Maria De Filippi si è trasformata in Angela Brambati, Gerry Scotti ha imitato Zucchero e Rudy Zerbi si è calato nei panni di Angelo Soggiu. La vincitrice della prova di playback è stata Sabrina Ferilli, che ha impressionato tutti con la sua imitazione di Michael Jackson su Beat It e un balletto memorabile. Gerry Scotti, deluso per la sconfitta, ha scherzato sul fatto che nessuno lo abbia votato. In ogni caso, la puntata di Tu si quevales è stata un successo e ha regalato momenti divertenti e emozionanti.